Mtrading, che sono gli importatori italiani di Sigma, che ci hanno dato la possibilità di essere i primi in Italia a vedere questo prodotto, che è la nuova serie cinema di Sigma. Usciranno le lenti zoom e una serie di lenti fisse. Le lenti zoom sono le 18-35 e i 50-100. Come vediamo, gli da l'immagine fondamentale l'apertura, che è un T2, quindi con le zoom abbastanza luminosi. Abbiamo una costruzione di tipo meccanico e lenti fatta tutta in Giappone. Come caratteristiche principali, questi zoom hanno un'escursione della messa a fuoco di 180 gradi di tutta la ghiera del fuoco. Il diametro di tutte le lenti avrà un 95 mm, quindi per la gestione di matbox, la gestione di anelli, abbiamo tutti lo stesso diametro. I passi sono quelli standard cinema 08 e Sigma dà un supporto tecnico sulle lenti per dieci anni da quando è stato prodotto la lente. Abbiamo qui anche tutta la serie fotografica Sigma. Qua presente c'è anche il loro anello, che è già uscito un pochino di tempo, che serve per utilizzare le lenti con attacco F sul sistema Sony e-mount, quindi su tutto il Nex. Testato, l'autofocus reagisce molto meglio rispetto a un meccanus, soprattutto se utilizzo un'ottica Sigma con questo anello sull'attacco Nex.